Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Confessione davvero struggente e profonda di Aurora Ramazzotti sulla mamma Michelle Luntziker, ai suoi tantissimi fan, ai quali ha fatto sapere che nei suoi confronti la madre aveva un atteggiamento assai oppressivo Ma non solo. C'è anche stato un periodo nella sua adolescenza che pare averla fatta parecchio soffrire. Ne ha parlato a Belve Aurora Ramazzotti si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni su mamma Michelle Luntziker, argomento di cui ha parlato priva di filtri ospite nel salotto di Belve, alla corte di Francesca Fagnani La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Luntzikeram che lei è stata ospite, come molti altri colleghi VIP, nel salotto di Belve, condotto magistralmente dalla mitica Francesca Fagnani, dove ha avuto modo ai suoi microfoni di diventare, come si suol dire, un libro aperto e confessare alcune cose della sua giovinezza che non sono state per lei particolarmente piacevoli I racconti di Aurora che, di certo non ti aspetti. Il video è poi stato ripreso su TikTok e contiene uno spezzone della chiacchierata avvenuta tra Aurora e Francesca in un punto in particolare dove l'argomento di conversazione si è soffermato su un piccolo difetto estetico . Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video . . .